Il gruppo protesta in parte dal contagio e soprattutto dalle forme gravi della malattia. L'Istituto Superiore di Aperità indica che anche con la variante detta la protezione rispetto alle forme alta al 92% per il reparto di ordinaria e al 95% per le terapie fissime. Lo dimostrano i dati dei ricomini negli ospedali che restano bassi a differenza di quanto successe in Europa a ottobre. L'incremento della protezione che avviene sempre è stato di 10,33% con i nuovi casi. La percentuale più alta di ospedalizzati è tra chi non ha ricevuto il vaccino emblematico quanto accadde a Trieste, in età percentuale delle manifestazioni di no green pass. Con 253 casi di 100 militanti e la città con l'incidenza più alta di media del reparto Covid ha dovuto riaprire e il pretetto parla di Eristio, zona gialla, anche se non evidente. Intanto per l'assalto alla sede delle scinele durante la manifestazione no pass del 9 ottobre a Roma, la Dicos ha esibito altre 6 misure operari. Ha arrestato i tre militanti di forza nuova nel movimento di estrema destra, tra cui il mila di giorni è stato disposto a più o meno di dimora. Oltre alla galassia non passa a trainare i contagi ci sono i bambini sotto i 12 anni per quali non è previsto il vaccino. Ma negli Stati Uniti tiene l'autorità federale che si occupa di regolamentare i farmaci ad aprivi a liberare il vaccino Pfizer tra i 5 e gli 11 anni. Ora si attende i pareri dell'EMA per l'Europa.